È stata una bella vittoria, arrivata in un momento particolare della nostra stagione che poteva aver minato un po' la nostra fiducia soprattutto e invece complice l'arrivo di una corrazzata come Milano abbiamo trovato le risorse tecniche, fisiche ed emotive per riuscire a competere fin dall'inizio dimostrando di essere pronti anche a colmare alcuni gap di natura fisica, atletica tecnica, anche la scelta di giocare con Tarceschi aveva ulteriormente ampliato questo gap fisico vicino al canestro sia nella metà campo offensiva che difensiva invece penso che siamo stati veramente straordinari nel cercare di supplire con l'energia Il momento cardine di gara penso sia stato l'approccio di terzo periodo perché dopo un primo tempo ispirato c'era il pericolo che potessimo ripartire un po' appagati di quanto fatto invece abbiamo trovato ancora più risorse fino a conquistare una vittoria che penso anche nel risultato testimoni l'atteggiamento che la squadra ha avuto in ogni singolo dettaglio del gioco che non sono necessariamente anche quelle di natura tecnica ma anche dal punto di vista emotivo dal punto di vista dell'energia e della combattività dimostrati Io penso che fare una disamina della partita di oggi partendo dall'aspetto offensivo forse secondo me potrebbe trarci in inganno partiamo dall'aspetto difensivo e lì non puoi pensare di essere efficace se non lavori insieme perché sono meccanismi molto sottili chiaramente l'arrivo di una squadra come Milano e certe tipologie di giocatori fornisce quell'ulteriore plus o plus come tu voglia dire di motivazione per riuscire a competere abbiamo saputo incastrare questa motivazione individuale con il lavoro insieme e quindi c'erano sempre puntuali rotazioni la capacità di aiutare chi aiutava sono concetti basilari in un sistema difensivo che stasera si sono proposti prepotentemente quindi al di là del risultato o di quello che te definisci giustamente atteggiamento e tentativo di giocare assieme io mi porto via il risultato fondamentale in un momento difficile come questo e l'atteggiamento difensivo anche perché quello veramente può incidere sulla nostra stagione e sulla definizione di un'identità che ci possa permettere di avere un futuro sappiamo cosa significa la Coppa io confesso non ho mai partecipato all'Eurolega nuovo format quella delle 30 partite di stagione regolare dei 4 turni doppi situazione che spreme tantissimo Milano finora aveva perso nei turni doppi in campionato questo paradossalmente doveva essere un turno di routine con una trasferta accessibile a poco più di un'ora di bus giocata alle 20.45 quindi anche con un tempo adeguato di recupero io voglio pensare che abbiamo trovato una squadra pronta preparata tra l'altro anche con un organico leggermente ridisegnato e poi onestamente tante alternative che hanno un roster di questo livello qui insomma con 11 giocatori in campionato veramente in grado di poter fare grandi cose quindi io non conosco quanto a che livelli possa spremere questa tipologia di Eurolega per quelle che sono le mie esperienze precedenti dico toglie tanto sta togliendo anche a noi però detto a giudicare la partita di stasera forse la stanchezza è l'ultima delle preoccupazioni uno sforzo come questo dovremmo fare attenzione a non pagarlo mercoledì perché è chiaro che oggi tutte le componenti spingevano in un'unica direzione quella di dover fare una partita di questo tipo per tanti motivi mercoledì sarà una di quelle partite da dover vincere per resistere per resistere in questa posizione attuale di vantaggio che però abbiamo rimesso in pericolo purtroppo in questo frangente di stagione il calendario parla in maniera inequivocabile e a noi non è permesso alcun errore nemmeno quando e dove il pronostico sembra chiuderci le porte adesso dovremo recuperare un po' di energie leccarci un po' le ferite qualche acciacco qualche problema fisico la distorsione di imbacque che ha dato una stretta ai racci ha voluto continuare a giocare però sai queste sono cose che poi domani mattina potremo pagare e speriamo non nell'approccio alla gara di mercoledì perché sarà determinante è una nuova a Parigi ci sono due giocatori diversi un nuovo ingaggio e un giocatore recuperato Odom dall'infortunio non giocò a Parigi squadra capace di battere Zagabria non molte settimane fa e di giocarsela anche nell'ultimo turno quindi a dispetto della loro attuale posizione di classifica è un avversario ostico io voglio vedere cosa ci può togliere in termini fisici una prestazione di questo profilo ma mi voglio augurare che ci dia molto di più dal punto di vista della fiducia una rinnovata fiducia e consapevolezza perché queste veramente sono le squadre con cui noi dobbiamo dimostrare di saper voler competere e una volta alzato il livello diventerà più semplice l'approccio con le altre non assolutamente pensare dare per scontato e automatico che poi trovare squadre non dello stesso rango ti dia dei vantaggi sul campo dovremmo mostrare la stessa faccia la stessa fame la stessa ambizione però vederci così sicuramente è il miglior modo per capire quale strada dobbiamo percorrere le nostre percentuali sono state imbarazzanti quindi quando è così veramente diventa difficile neanche devo difendere i miei giocatori perché credo che ciascuno di loro nella loro carriera così tanti tiri aperti così tanti errori da sotto errori ai tiri liberi non li abbiano mai fatti quindi e non si può dire che che lo facciano per superficialità perché anche oggi in questo eh disastro offensivo eh siamo tornati a ad avere la tripla per tornare a due canesti a due possessi a 50 secondi alla fine abbiamo sbagliato la del meno 8 a 4 dalla fine apertissime un altro lay up abbiamo pressato e recuperato fino in fondo è un momento che per loro è troppo noi oggi non ci hanno dato una mano nemmeno i lunghi dove dobbiamo raschiare le energie dove potevamo avere un vantaggio eh come dire proprio per avere una partita un po' più solida e evidentemente le energie in questa fase non ce ne ha più nessuno dei miei abbiamo tirato un po' il collo a tutti eh tra infortuni e cercare di di fare questo sforzo e provare a competere in Eurolega queste cinque partite che abbiamo giocato punto a punto con un roster di infortuni e di mezzato ci porta a una prestazione come questa però ripeto è difficile commentare perché se avessi pensato di tenere Torino a 20 punti meno di quanto segna in casa normalmente perché segna 90 e qualcosa ne fa 70 oltretutto avendo mollato qualcosina in fondo noi eh il primo quarto è stato emblematico era quello in teoria che volevamo fare cioè non far correre Torino tenerli a a quei 16 punti noi abbiamo iniziato la partita sbagliando tre tiri aperti e un 5 metri di vantaggio è chiaro che Torino ha fatto delle scelte drastiche ci ha fatto tirare pensate nella nostra posizione di di numero 4 chiunque ci abbia giocato tiri aperti che che abbiamo sbagliato ma tutti e dopo diventa complesso perché abbiamo sbagliato qualunque cosa potesse farci entrare in partita cioè lay up contro piedi cioè situazioni di sovrannumero tiri liberi tiri da 3 punti con 4 metri di vantaggio e quindi succede una partita come questa dove sicuramente una partita brutta però dove ecco nessuno ha fatto una sua prestazione normale in attacco e quindi li devo sostenere in questo momento perché è chiaro che è proprio anche una cosa mentale mentre loro hanno provato a stare cioè in una partita che fai delle percentuali così contro una squadra che ha entusiasmo con questo pubblico che è una partita come questa ne puoi prendere 20 invece abbiamo ripeto la potevamo riaprire persino nell'ultimo minuto e quindi niente so quanto ci stanno provando quanto è frustrante dobbiamo non voglio dire nemmeno recuperare qualche infortunato perché non sarà sufficiente perché poi quando rientreranno dovranno rientrare in ritmo dobbiamo prendere un po' più la condizione tra tutti ma onestamente sono preoccupato dal calendario perché per come siamo l'Eurolega così è impietosa e noi adesso giochiamo venerdì con il Panatinaikos torneremo sabato sera e giocheremo domenica alle 5 con Cantù che è una squadra che ha ritmo ed energia dopodiché giocheremo due partite di Eurolega in 48 ore di nuovo il mercoledì e il venerdì prima di giocare il 26 con Brescia e in queste condizioni per noi è difficile quindi la prima cosa ripeto che devo fare è sostenerli pensando che anche in questo stato una partita come oggi si debba ragionevolmente anche in pochi giorni avere una percentuale diversa stasera grazie grazie Grazie.